A fianco del santuario, attorno al grandioso piazzale Giovanni XXIII, il Papa Buono, sta la casa delle adolescenti, dove 300 alunne frequentano la scuola media, di artigianato femminile, di dattilografia e la scuola di metodo. Sullo stesso piazzale sorgono gli edifici dell'Istituto Tecnico Grafico, fornito di una grande tipografia che ha le macchine più moderne e perfezionate, ha laboratori e gabinetti scientifici.